Il Covid taglia i voli anche all'aeroporto di Comiso. La compagnia low cost irlandese Ryanair ha sospeso infatti almeno per il momento i voli previsti al Pio La Torre. Naturalmente il motivo è dovuto al minore traffico di passeggeri, praticamente nullo, dovuto all'emergenza coronavirus. La sospensione è prevista al momento fino al 31 gennaio, ma potrebbero arrivare anche delle novità. Da Comiso non ci saranno voli per Milano, Charleoy e Pisa. In realtà sono 11 gli scali italiani interessati da questo taglio operato dalla compagnia irlandese. Oltre a Comiso anche Alghero, Cuneo, Trieste, Genova, Parma, Rimini, Ancona, Pescara, Perugia e Crotone. E mentre il vettore irlandese fa i conti con una sforbiciata senza precedenti su parecchi aeroporti italiani, anche Alitalia, che avrebbe dovuto operare i voli da Comiso in continuità territoriale con tratte giornaliere su Roma e Milano o Linate, riduce la sua capacità. Alitalia assicurerà solo due collegamenti settimanali invece che il giornalieri sullo scalo di Linate e ridurrà da 14 a 7 i collegamenti settimanali su Roma a Fiumicino. Tutto quindi resta fermo alla notizia, certamente positiva, di una settimana fa, quando sempre per il Piola Torre fu sbloccato un finanziamento di 5.186.000 euro per le nuove tratte verso l'aeroporto di Comiso. La quinta commissione all'Assemblea regionale siciliana aveva approvato il parere, vincolante per il finanziamento delle somme, a darne notizia allora era stato il parlamentare regionale del Partito Democratico, Nello Di Pasquale. Esprimo grande soddisfazione, aveva dichiarato, perché già nella scorsa legislatura, con un mio emendamento in commissione bilancio, ero riuscito a far ammettere il finanziamento sia per l'aeroporto di Comiso che per quello di Birgi. Le risorse destinate a Comiso saranno distribuite in un triennio e aiuteranno senza dubbio a incrementare le rotte aeree da e per lo scalo comisano, rotte però almeno per il momento bloccate, sempre a causa del coronavirus. Grazie. 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 Grazie.